questo incontro è particolarmente interessante perché si occupa del nostro territorio di roma e del territorio laziale occupandosi anche delle problematiche e anche delle esperienze virtuose che ci sono state fatte. È una buona occasione per avvicinarsi a questo tipo di problemi. Per quanto riguarda nello specifico il discorso che tratteremo, si parlerà sia di strechi alimentari che oggi è anche una cosa molto trattata e curata, sia di esperienze virtuose per quanto riguarda le tecniche di edificazione o altre realtà. Detto questo credo di esaurire il mio ruolo qui, vi auguro a tutti voi un buon lavoro e sarò con voi comunque in questo percorso interessante. Grazie. Grazie a te Salvatore. Salvatore Speranza è presidente di Cittadinanza Attiva Lazio. Lo ringraziamo per questo breve saluto e l'incoraggiamento al proseguimento dei lavori. Tra l'altro ringraziamo anche per l'impegno e la diffusione di questa iniziativa. Passiamo subito ad introdurre rapidamente i lavori. Di cosa parliamo oggi? È appunto il progetto Spreka.fo, una generazione contro gli sprechi, per farla in breve più correttamente, una rete nazionale per la lotta allo spreco e la promozione del consumo responsabile. È un progetto che nasce nell'ambito del finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il bando dedicato al terzo settore ed è connotato naturalmente nell'obiettivo 12 dell'Agenda ONU 2030. Quali sono gli obiettivi principali di questa iniziativa? Sicuramente appunto l'impegno alla sensibilizzazione, alla riduzione degli sprechi e al confronto con tutte le parti interessate proprio a cercare di intervenire su quegli aspetti che coinvolgono la vita di tutti noi. In primis pensiamo ad esempio ai servizi pubblici di pubblica utilità, quali acqua, energia e mobilità, nonché un'indagine da vicino a tutte quelle buone pratiche, in particolar modo nell'ambito dell'economia circolare, che saranno tra l'altro oggetto della seconda sessione dei lavori di questo appuntamento. La prima sessione invece sarà più dedicata al confronto tra amministrazioni, appunto società che intervengono anche nei servizi, nell'ambito dell'energia, con noi anche Edison che garantisce anche un supporto non condizionato al progetto e tutte quelle componenti che comunque contribuiscono alla vita della città, anche di una città metropolitana così complessa come la città di Roma Capitale ed è quindi un'occasione di un'istantanea delle condizioni che in qualche misura sono oggi vigenti e delle prospettive naturalmente ambiziose che tutti quanti noi ci proponiamo di raggiungere. Senza ulteriori indugi, a questo punto io aprirei subito al primo relatore di modo che ci sia lo spazio di poter affrontare puntualmente e raccogliere adeguatamente i contributi di tutti. Ringraziamo Daniele Diago, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma, che so essere con noi, lo invito a riattivare il collegamento e se così non fosse perché magari è intervenuto qualche contrattempo, semmai inviterò immediatamente Dario Tamburrano, lo anticipo. No, via Daniele. Io ci sono. Perfetto Daniele. Grazie, scusami perché... No, scusate voi perché sempre con le applicazioni è ovviamente sempre un po' complicato, però ecco comunque sono qui, insomma. Non so se mi sentite. Sì, sì, benissimo, benissimo, ti vediamo anche bene. Ti ringraziamo innanzitutto per la tua disponibilità e ti lascio volentieri la parola, insomma, per portarci testimonianza da parte dell'amministrazione di Roma Capitale rispetto ai temi di cui stiamo trattando. Sì, intanto grazie dell'invito, ringrazio Cittadinanza Attiva per questo invito, ringrazio ovviamente il Presidente Speranza e anche il moderatore oggi Raniero Maggini, sappiamo insomma, ovviamente anche membro del VUF, ci siamo visti più volte nelle commissioni ambiente che abbiamo insomma trattato in questi anni. Il tema è un tema ovviamente attuale, insomma, ecco dove si parla di spreco, ovviamente noi come amministrazione abbiamo tentato di mettere in campo delle azioni per poter arrivare, comunque innanzitutto per trattare dei temi sensibili, che ovviamente riguardano lo spreco, come per esempio lo spreco alimentare o comunque diciamo le riduzioni dei rifiuti. È chiaro che è un discorso molto ampio, potremmo stare qui a parlare per ore e per giorni, ovviamente anche confrontandoci. I temi che abbiamo trattato ovviamente sono temi centrali, temi cruciali, ovviamente che tutti i comuni, tutte le città europee insomma in questo momento stanno affrontando, che sono appunto il ciclo dei rifiuti, che insomma sapete bene che è un tema comunque carne ovviamente di ogni amministrazione, perché quando si riesce a intraprendere una strada virtuosa è normale insomma che il ciclo dei rifiuti va a migliorare, si crea una volontà appunto, è quella di creare un'economia circolare, così come ci chiede appunto l'Europa, e sappiamo però che la città di Roma è una città molto grande e molto complessa e non è facile ovviamente attuare un tipo di porta a porta o comunque diciamo un'attività di riciclo dei rifiuti, insomma nei piccoli comuni ovviamente a livello tecnico è più semplice, nella città di Roma è complicato sia per la vastità ma anche per la mancanza di impianti di riciclo, questo ovviamente lo abbiamo ormai compreso e l'avete ormai compreso anche a mezzo stampa, insomma, la difficoltà che la capitale comunque vive proprio per mancanza di impianti, insomma. Noi oltre a queste difficoltà è chiaro che abbiamo tentato insomma di inserirci in un contesto virtuoso, in un contesto di sostenibilità. Abbiamo avviato la progettazione di due impianti di compostaggio aerobico, sappiamo che la frazione umida è una frazione altamente impattante perché ovviamente genera percolato e di conseguenza genera ovviamente inquinamento, perciò l'idea dell'amministrazione è appunto quello di creare, di realizzare due impianti di compostaggio aerobico per dar vita poi dalla frazione umida all'humus al composto per diciamo creare appunto la possibilità di creare ovviamente una situazione di virtuosità, perciò ovviamente andremo poi quando saranno realizzati a distribuire il compost e a concimare comunque altri terreni per diciamo creare appunto questa situazione di sostenibilità. Abbiamo parlato ovviamente, stiamo parlando insomma di rifiuti, come abbiamo accennato insomma un tema cruciale, un tema ovviamente che insomma in questo momento, ecco ripeto, dove c'è grande attenzione soprattutto ovviamente per l'aumento anche della raccolta differenziale perché sappiamo che quando differenziamo bene, quando differenziamo le materie prime ovviamente poi da lì possiamo creare una materia prima seconda, perciò il nostro intento è quello di trasformare, ovviamente non vorrei diciamo creare ovviamente ciò in questo in questo evento un discorso politico, ma comunque per esempio conosciamo tutti quanti Rocca Ciencia, vorremmo trasformare questo impianto, l'abbiamo detto anche il nostro piano industriale, in un impianto di selezione di multimateriale per creare appunto altre altre materie, questo deve essere l'obiettivo un po' ovviamente di tutti i comuni, ecco creare appunto delle infrastrutture sostenibili e delle infrastrutture di riciclo perché quando si hanno degli impianti funzionanti e comunque mirano a non creare impatto come potrebbe essere appunto un incineritore o comunque una discarica, con gli impianti leggeri, sostenibili, di riciclo andiamo comunque a creare nuova materia come per esempio anche in quel caso dove ho spiegato appunto sugli impianti di compostaggio aerobico. Le azioni che abbiamo intrapreso oltre ovviamente al tema dei rifiuti, di anche il tema del verde urbano, sul verde è stato fatto un ottimo lavoro, almeno questo è la mia opinione ovviamente a parte a parte gli investimenti, a parte ovviamente il grande traguardo del regolamento del verde, ma le tante attività di messa a dimora perché comunque quando parliamo di spreco, parliamo di ambiente, parliamo di cambiamenti climatici, dopo ce lo spiegherà bene il dottor Tamburrano, perciò ecco sul verde che si inserisce appunto nel contesto insomma della lotta ai cambiamenti climatici, su questo è stato fatto veramente tanto. inizieranno tante attività di messa a dimora da ottobre perché adesso ovviamente non è il periodo vegetativo migliore insomma per piantare alberi anche per eseguire delle potature aspetteremo a ottobre per partire ovviamente con questo tipo di attività dove ovviamente gli investimenti sono stati tanti e ovviamente non andrò appunto a delencare, non dirò dove verranno piantati insomma per non tediarvi, ma comunque l'intento è quello di creare boschi urbani, di creare ovviamente dei corridoi verdi all'interno della città. Oltre ovviamente al verde un'altra azione importante è stata quella della realizzazione della delibera Daniele devi riattivare l'audio Ecco mi sentite? Sì, sì, sì. Sì, ok, procedo, vado avanti in modo anche rapido, stavo parlando ovviamente delle azioni che abbiamo intrapreso, per esempio l'ultima non meno importante, anzi di grande attualità soprattutto legata all'emergenza Covid, perciò un'emergenza sanitaria che comunque ha visto diciamo una crisi anche alimentare, abbiamo realizzato la delibera sulla food policy con delle varie associazioni ovviamente di grande importanza e con questa delibera insomma siamo andati a delineare un po' le azioni, un po' come feci Milano ovviamente sulla scia di Milano sulla food policy noi come Roma abbiamo tentato di fare un passo in più, un passo in avanti, realizzando una delibera ovviamente un po' complessa, un po' più complessa che abbracciava innanzitutto ovviamente si parla dello spreco alimentare, perciò collegata alla legge Gadda, si parla del chilometro zero, ovviamente della possibilità di distribuire cibo a tutte le fasce sociali, perciò per non lasciare nessuno indietro, perciò un cibo ovviamente sostenibile, un cibo biologico soprattutto, perciò si parla di coltivazioni biologiche, biodinamiche e quant'altro, come ho detto appunto anche la lotta ai pesticidi, perché quando parliamo ovviamente di food policy, parliamo di cibo ovviamente di qualità, parliamo anche della lotta ovviamente ai pesticidi, perciò della lotta anche all'OGM. Chiediamo, insomma abbiamo chiesto ovviamente con questo strumento anche il Consiglio del Cibo, perciò creeremo all'interno dell'amministrazione un dibattito, un sano dibattito per poi dare i giusti indirizzi ovviamente da parte della popolazione, da parte delle associazioni che vogliono comunque dire la propria sulla politica del cibo, che ripeto comunque si inserisce sempre nella lotta ai cambiamenti climatici, perché parliamo anche di consumo di suolo, insomma sono tanti aspetti che comunque abbiamo toccato ovviamente con questa delibera. E poi non ultimo, poi ne parlerà ovviamente meglio di me il dottor Tamburrano, il piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, dove è stato fatto un lavoro straordinario, ovviamente non andrò a spiegarlo io, ma lo spiegherà il dottor Tamburrano, ma comunque anche questo è un tastello in più per raggiungere quegli obiettivi virtuosi, complicati, assai complessi ovviamente di un comune come Roma, per poter insomma diciamo fare la propria azione, perché ripeto ognuno deve fare la propria parte. Questo è imprescindibile quando si parla di ambiente, quando si parla di sostenibilità, quando si parla di lotte e cambiamenti climatici, ognuno deve fare la propria parte, nessuno deve rimanere con le braccia concerte, deve dare il proprio contributo, deve dare un messaggio, insomma ecco, di vicinanza appunto all'ambiente, perciò sul Paes che è stato, ripeto, fatto veramente un grandissimo lavoro, c'è stato un convegno anche l'altro giorno proprio per cercare insomma ecco di comunicare alla città e non solo ovviamente il lavoro che è stato fatto, ma è un primo passo. Ogni cosa ovviamente inizia con queste azioni, che sono azioni appunto amministrative, ma che poi devono calarsi nella realtà e nella concretezza. Questo appunto però su quello ovviamente ognuno deve fare, dicevo, la propria parte, deve mettersi in gioco. Io ho terminato, ovviamente ho illustrato sommariamente i quattro cardini che sono appunto il tema di rifiuti, potete ovviamente vedere anche la delibera 47 su diciamo i materiali post consumo, ovviamente che mirano anche ai rifiuti zero, così è un termine che viene spesso utilizzato, però comunque noi ci siamo soffermati su questi quattro temi, su questi quattro grandi temi che sono appunto i rifiuti, il verde, la food policy e il Paes. Perciò insomma da qui iniziamo un percorso ovviamente di, come dire, di sostenibilità, insomma ecco, di ascesa per una città che comunque ha bisogno ovviamente di green, ha bisogno di verde, ha bisogno di una visione sempre più sensibile dal punto di vista ambientale. Io ho terminato, vi ringrazio, non so se ci sono poi domande, ma comunque mi rendo disponibile, sono qui ad ascoltarvi. Grazie ancora, vi invito. Grazie, grazie a me. Ringraziamo appunto il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma che ci ha dato alcuni assist per iniziare a ripetere questa mattinata, ricordando appunto che l'impegno deve essere di tutti, certo delle amministrazioni che ci indirizzano e dei cittadini naturalmente che dovevano attivarsi in prima persona e su questo cittadino che è ovviamente accoglie ben volentieri la sfida. Passiamo quindi al secondo relatore previsto, Dario Damburrano, tra l'altro anticipato appunto anche dal Presidente Diaco, che è coordinatore del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima di Roma Capitale e che già si è occupato delle questioni energetiche come europarlamentare. vi dicevo volentieri la parola per farci conoscere un pochino quali sono le azioni in merito. Grazie, grazie Raniero, grazie dell'invito a tutti i presenti che ci stanno ascoltando. Per chi magari non è proprio addentro al discorso europeo dei piani di azione per l'energia e il clima, i Paes fanno parte delle azioni del patto dei sindaci e è un'iniziativa volontaria dalla Commissione Europea dove le città volontariamente si impegnano rispettando una serie di linee guida, di protocolli e di regole a degli obiettivi di riduzione delle emissioni clima alteranti e questi erano i primi Paes. Poi si è aggiunta la C perché c'è il discorso energetico e c'è il discorso climatico, quindi non solo riduzione delle emissioni ma anche aumento della residenza del sistema urbano di fronte all'incalzare dei cambiamenti climatici. Il Paese di Roma è un documento di 458 pagine, non vi dedierò con riduzione completa che richiederebbe comunque una sessione ad hoc e forse non basterebbe e mi ricollego un pochino magari a quello che è il tema dello spreco, spreco, le città nel mondo rappresentano il 70% dei consumi energetici e il 70% del flusso della materia ed è lì che bisogna concentrarsi per quella che ora viene chiamata comunemente transizione green, senza un'attenzione a quelli che sono gli asset fisici e i flussi di materia ed energia e quindi trasformare l'energia fossile in energia rinnovabile, quindi chiamiamola energia circolare anche questa, e il flusso della materia e non flusso della materia circolare, le città saranno dei buchi neri che contribuiscono comunque a tutta una serie di situazioni, in primis il cambiamento di macchie. Per quanto riguarda le azioni, ecco, ho sentito citare il discorso dell'edilizia, noi abbiamo cercato di effettuare anche un lavoro creativo di immaginazione, perdonatemi il termine, perché quando io ho preso in mano il lavoro già fatto sul Paesc, era un lavoro che non per colpa di coloro che ne hanno preceduto, era diventato improvvisamente vecchio, perché tra il 2018 e il 2020 in Europa e quindi anche negli Stati membri sono successe una serie di questioni, in primis l'approvazione del pacchetto energia-clima tra il 2018 e il 2019 in Parlamento Europeo, in Consiglio e quindi pubblicazione sulla gazzetta ufficiale di un quadro regolatorio dell'energia che adeguasse gli obiettivi clima e energia al 2020, li spostasse al 2030 con un obiettivo di almeno il 40% di riduzione dell'emissione. Poi l'arrivo della commissaria Van der Leyen ha dato un impulso alle politiche energetiche e climatiche di sostenibilità e quindi è stato parato il Green Deal che si è andato poi a innestare su quella che è la crisi pandemica, quindi transizione ecologica e ripresa dalla crisi pandemica sono delle politiche europee che vanno di pari passo e gli obiettivi di riduzione della CO2 a livello europeo sono stati innalzati al 55%. Il Paese di Roma ha un obiettivo del 51,6% non del 55% ma qui ci sono due questioni da sottolineare. L'obiettivo del 55% è un obiettivo europeo che verrà declinato per obiettivi per gli Stati membri e all'Italia verrà assegnato un obiettivo probabilmente del 51%. In più la possibilità di riduzione delle emissioni di CO2 da parte di un'amministrazione locale è condizionata molto da quello che è il piano nazionale integrato nel Giaclima da cui discendono i fattori emissivi dei carburanti e noi siamo riusciti comunque a declinare, a farci giustificare da Ispra un piano di azione al 51,6% nonostante l'attuale PNIEC sia fermo all'obiettivo del 40% per emissione. Per entrare nel dettaglio ecco è stata citata l'edilizia, c'è un capitolo dedicato all'edilizia, in realtà più di uno e che viene chiamato non casualmente efficienza energetico ambientale al primo posto ondata dell'innovazione edilizia e ognuna di queste parole ha un significato. Non ci siamo concentrati solo all'efficientamento energetico ma su quello che è l'efficienza energetico ambientale perché abbiamo voluto evitare degli indirizzi politici che si concentrassero esclusivamente sul, seppur benvenuto, risparmio di energia senza tenere in considerazione quella che fosse la qualità dell'aria e comunque del vivere interno, quella che fosse il ciclo di vita e il caso di dirlo dalla culla alla tomba dell'edificio perché possiamo magari risparmiare energia ricoprendo di polistirolo un edificio ma sicuramente non abbiamo fatto un favore all'ambiente. Quindi si dà importanza anche a quello che è il processo e l'utilizzo dei materiali da costruzione perché anche i materiali da costruzione devono avere comunque un impatto climatico il più possibile, se non zero, il più possibile ridotto, devono avere la possibilità poi comunque di essere riutilizzati e rientrati nel flusso virtuoso alla materia a fine ciclo dell'edificio. Ondata dell'innovazione edilizia si rifà alla strategia della Commissione Europea di ottobre 2020 dove è stata lanciata l'iniziativa Renovation Wave perché chiaramente non è impensabile raggiungere gli obiettivi clima e energia dell'Unione Europea senza una riqualificazione profonda e con un ritmo di qualificazione annuale sostenuto del Parco Immobilare Europeo, quindi nazionale, quindi cittadino. Al primo posto, questa è una cosa che andrebbe sottolineata frequentemente nei vari consensi dove si parla di ambiente, energia, clima, l'efficienza energetica è il primo carburante come l'ha definito la Commissione Europea, mentre spesso si spinge più sulla produzione di nuova energia rinnovabile, cosa assolutamente necessaria, ma senza la riduzione delle necessità di consumo da parte della società, riuscire a sostituire completamente il fabbisogno di energia attuale e sostenuto dalla fossile con l'energia rinnovabile è tecnicamente assai complicato, quindi bisogna per prima cosa ridurre i consumi e questo è possibile, è possibile perché noi abbiamo degli edifici tendenzialmente che sono dei collaboratori energetici e quindi quello è il primo passo da fare. Leggo che c'è una partecipazione di cittadinanza attiva, queste cose e altre che sono descritte nel Paesc non possono essere realizzate o meglio tutta la green transition, la cosiddetta transizione energetica, climatica, sostenibile che dir si voglia e realizzarla solamente con un processo dall'alto verso il basso è assolutamente impensabile. La prima barriera, l'ultima barriera, la più difficile che resiste per il cambiamento nella direzione della neutralità climatica è la barriera culturale e della conoscenza. Perché in Europa ormai le barriere giuridiche sono state abolite e verranno ancora più abolite con il pacchetto recentemente annunciato dalla Commissione Europea del Fit for Fortify. Le barriere economiche chiaramente esistono ma abbiamo di fronte un momento in cui i fondi dei piani nazionali di ripresa e resilienza dovrebbero sicuramente dare una mano in questo processo di transizione. Chiaramente se i piani vengono scritti e fatti in maniera tale da non soddisfare le necessità economiche dei soliti grandi attori ma che questa iniezione di liquidità arrivi comunque sui territori a disposizione dei cittadini. Un esempio comunque virtuoso è l'eco bonus. Come risolvere il problema dalla barriera culturale? La più difficile. Roma Capitale ha deciso di lanciare l'iniziativa Sportelli energia pulita a chilometri zero dove verranno formati dei dipendenti capitolini, volontari, abbiamo già comunque un folto gruppo inizialmente formato per avviare un processo di supporto a cittadini e imprese che si vogliono cimentare e collaborare nei processi della transizione energetica. Quindi saranno gli sportelli di consulenza e indirizzo e dietro questi sportelli ci si aspuga di riuscire a realizzare una semplificazione delle pratiche amministrative per facilitare sia i cittadini, i condomini e le imprese che vogliono comunque effettuare riqualificazioni energetiche, comunità dell'energia e così via. Una questione che è indirettamente collegata al discorso dello spreco è la produzione di energia rinnovabile distribuita e locale. Una non indifferente quantità di energia circa 10-7-8% a seconda delle situazioni viene dispersa parlo di energia elettrica durante il trasporto nella rete. Quindi già la produzione e il consumo locale di energia rinnovabile al di là degli effetti climatici ha anche degli effetti economici e di efficienza energetica nel senso della distribuzione di energia. Abbiamo un capitolo dedicato all'ausilio, il supporto che Roma Capitale vuole dare alla costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile a livello cittadino, dove Roma Capitale ha anche il rapporto a come verrà recepita la direttiva rinnovabili vuole essere un attore di primo piano cercando di farsi ente promotore per la costituzione di classe delle comunità d'energia capitoline. non so quanto ho parlato quindi non vorrei tediarvi ulteriormente e allargarmi troppo soffrendo tempo agli altri ritori. Raniero, ho la possibilità di dire qualcos'altro? allora in realtà sì i tempi naturalmente per consentire lo spazio di fare a tutti sono abbastanza stretti e se riesci a chiudere in un paio di minuti volentieri. Guarda allora ho visto che nella seconda parte si parla anche di smartness il ruolo delle tecnologie dell'informazione della comunicazione applicata alla transizione ecologica è fondamentale, è un capitolo dedicato alla Roma al piano smart cities e tutta una serie di collegamenti tra quella che è l'efficienza energetica e la generazione di energia rinnovabile e l'efficientamento energetico tramite l'intelligenza applicata alle case, agli edifici, alla distribuzione, al foccaggio dell'energia, utilizzo dell'energia e non ultima la conseguenza anche dell'ICT è la possibilità dello smart working. Tante volte spostarsi per andare a lavorare o partecipare ai eventi al di là del piacere comunque della presenza fisica che chiaramente è tutta un'altra cosa o comunque comporta congestione e comporta emissioni di CO2. Quindi vi è anche per esempio per le aziende per spostare e mantenere al di là dell'emergenza pandemica almeno il 60 per cento dei dipendenti carotidini in smart working almeno due volte a settimana e questa è sempre una delle conseguenze dell'applicazione e anche della diminuzione dei costi, delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e dell'utilizzo delle reti a internet. Io qui mi fermo, chiaramente il discorso è amplissimo come ho anticipato, quindi comunque vi ringrazio per averci dato la possibilità di illustrare brevemente il piano che è sul sito del patto dei sindaci. Sotto Roma Capitale potete scaricare il piano completo, le azioni e anche i documenti più tecnici per il calcolo delle emissioni. Grazie. Grazie Dario comunque per le interessanti indicazioni insomma del percorso sviluppato. Sembra quasi una naturale evoluzione, adesso passare al successivo relatore. Mi sentite? Io la sento. Ma mi abbiamo perso qualcuno. Sembra sì. Forse il signor Raniero. Sì. Eccolo. Non so che cosa sia successo e dove ci siamo fermati. Comunque ringraziamo appunto il dottor Tamburrano. Dicevo che c'era un ponte evidentemente fisiologico con il successivo relatore, proprio nella logica che metterà a confronto amministrazione, aziende e cittadini e quindi lascio volentieri la parola al dottor Piva di Edison Energia. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi ringrazio moltissimo di avermi coinvolto in questo meeting che devo dire è decisamente molto interessante e sono stati molto molto interessanti anche gli interventi che ho appena ascoltato. Devo dire che siamo assolutamente in linea con quello che è stato esposto fino ad ora e mi farebbe veramente piacere anche successivamente a questo incontro cercare anche un coinvolgimento personale con ognuno di voi anche per scambiare diciamo delle vedute un pochino più di ampio respiro su questo argomento e anche per avere diciamo dei suggerimenti da parte vostra su come stiamo cercando di essere il più possibile aderenti a quello che è un tema che secondo noi ormai è diventato un tema di fondamentale importanza che dovrebbe essere sicuramente tra le priorità di una qualsiasi azienda, governo, famiglia e istituzione perché infatti riteniamo che solamente diciamo un coinvolgimento diffuso di tutti quelli che sono gli attori fondamentali di una società moderna e quindi appunto cittadini, aziende, consumatori e istituzioni ci possa permettere di conseguire un miglioramento, un'inversione di tendenza che invece oggi ci prospetta un futuro denso di criticità, denso di criticità ma anche dal punto di vista della salute pubblica, della salute individuale ma anche dal punto di vista della salute del pianeta che ci ospita. ecco Edison naturalmente è molto diciamo attiva su questo argomento e pone molta attenzione al tema e sta sviluppando molteplici iniziative che tendono veramente ad un corretto consumo della materia prima ed una conservazione della stessa materia prima quindi cercare naturalmente di abbattere moltissimi consumi e su questo sono assolutamente in linea con il dottor Tamburrano che ha appena fatto l'intervento. Con una storia di circa 130 anni Edison inizialmente era presente principalmente aveva una vocazione nell'ambito della produzione dell'energia elettrica e nella fornitura e di gas naturalmente nella fornitura di grandi consumatori. Grazie anche poi alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica diciamo questa attenzione è andata anche verso i piccoli consumatori e quindi quello che è oggi eh un mercato residenziale e un mercato domestico dove ci sono clienti che tra l'altro hanno subito una una mutazione nel corso del tempo importante e la mutazione non è ancora finita eh sta ancora proseguendo e sta andando avanti quindi si passa da quello che una volta veniva considerato un utente eh a quello che oggi invece è un vero e proprio cliente un attore un attore che deve essere un attore fondamentale all'interno del mercato dell'energia elettrica e deve anche essere lui partecipe di quella che è la transizione appunto del del mercato dell'energia elettrica. Quindi a questo cliente stiamo cercando di offrire non solo prodotti e servizi naturalmente ma stiamo cercando di offrire soluzioni tese eh all'efficientamento energetico quindi soluzioni che tenderanno ad abbattere i consumi. Quindi vogliamo in qualche modo cercare di accompagnare il cliente verso un abbattimento dei consumi che secondo noi è il vero intervento che possa garantire nell'immediato delle soluzioni tangibili, delle soluzioni visibili e veloci e veloci eh in modo tale che si possa andare veramente in modo concreto verso quello che è un corretto utilizzo delle materie prime. Oggi in Italia Erison gestisce circa un milione e seicentomila clienti e diciamo che storicamente ha sempre avuto una gestione eh nazionale. E nazionale vuol dire eh quasi diciamo utilizzando dei canali molto trasversali su tutto il territorio nazionale. Grazie anche appunto all'evoluzione di cui parlavo poc'anzi da utente a cliente ci siamo resi conto che eh si rendeva necessaria o invece una gestione territoriale e anche qui sono molto contento diciamo dell'iniziativa che ho appena sentito del dottor Tamburrano della creazione di questi sportelli eh che si vogliono offrire ai cittadini perché è un po' quello che stiamo cercando di realizzare anche noi cercando di essere presenti e vicini sul territorio che come ben sapete è molto variegato su tutto il territorio nazionale quindi le esigenze di un cliente del Lazio sono sicuramente molto diverse da un'esigenza che abita in Lombardia o o in Sicilia. Quindi stiamo cercando di essere vicini sul territorio cercando di comprendere le esigenze del cliente finale cercando di offrire al cliente delle soluzioni tese a risparmio energetico che non siano standardizzate e quindi uguali per tutti ma che siano costruite su misura eh proprio in base a quella che è la vita vissuta del cliente eh specialmente dove si trova in base anche al territorio eh che lo ospita. In tal senso ad esempio assistenza casa che è una società del gruppo eh del cento per cento di Edison eh che ha diciamo circa mille e seicento tecnici dislocati su tutto il territorio nazionale ci garantisce appunto una capillarità sul territorio che ci permette di veicolare quelli che una volta eh venivano chiamati i servizi post contatore no? Quindi i servizi post contatore oggi sono diventati dei veri e propri servizi tesi all'efficientamento energetico e che aiutano il cliente a andare verso questa transizione che è diventata decisamente fondamentale per la vita eh di tutti i giorni e per la vita del pianeta. Un piccolo focus nella regione Lazio eh stiamo gestendo circa 80.000 clienti eh residenziali eh circa 15.000 clienti sulle piccole e medie imprese. Abbiamo aperto appunto questi 19 punti sul territorio che hanno un po' l'obiettivo proprio quello di aiutare il cliente a capire quali sono le esigenze e come si può andare verso un efficientamento energetico e verso un corretto utilizzo del eh delle risorse e della materia prima. Abbiamo delle stazioni di servizio come ad esempio a Frosinone a Fondi eh a Nepi due impianti fotovoltaici da un megawatt di potenza installata l'uno uno in provincia di Frosinone e uno in provincia di di Latina e diciamo con questa struttura che sicuramente cercheremo di integrare e cercheremo di sviluppare nel corso del del tempo stiamo cercando di offrire appunto assistenza su tutte quelle che sono anche delle soluzioni che ci vengono offerte ad esempio dalla nuova normativa da alcune normative come ad esempio quella che è il decreto rilancio. Il decreto rilancio che ci dà la possibilità appunto di affrontare argomenti eh tipo l'eco bonus, il super bonus eh oppure anche la la mobilità elettrica. Ecco eh una famiglia attraverso l'eco bonus oggi potrebbe ad esempio eh efficientare quello che è il consumo all'interno della sua abitazione con interventi che magari prima potevano essere più complicati o potevano essere eh anche un pochino troppo onerosi per la famiglia stessa. Quindi sostituire ad esempio una caldaia di vecchia generazione con una caldaia di nuova generazione può comportare a quella famiglia di ottenere dei risparmi significativi innanzitutto sul consumo delle della materia prima ma efficientare e anche abbattere sostanzialmente quelle che sono le emissioni in atmosfera. Se questo diciamo intervento viene poi accompagnato da una corretta gestione, una corretta manutenzione dello strumento che si va a sostituire sicuramente possiamo intervenire anche su quello che può essere considerato lo spreco perché quel tipo di eh macchinario avrà senz'altro una vita utile molto più lunga quindi avrà una vita utile molto più lunga potrà essere sostituito eh dopo dieci anni anziché sostituirlo dopo quattro cinque anni eh e si potrà contenere anche un problema di smaltimento di questi macchinari che a volte eh può rappresentare veramente anche un problema all'interno delle nostre città e all'interno dei dei nostri territori. Quindi sicuramente l'ecobonus è uno strumento importante eh che ospichiamo possa essere eh sviluppato e possa essere ancora integrato nei prossimi anni. Superbonus anche questo è un intervento eh chiamiamolo più unico che raro sicuramente complicato e come abbiamo visto tutti anche denso di di pratiche e di eh burocrazia. Proprio per questo le grandi aziende eh come noi eh secondo noi si devono proporre verso il cittadino a livello consulenziale quindi devono cercare di agevolare il cittadino più che altro per quanto riguarda lo svolgimento delle pratiche burocratiche appunto le pratiche amministrative quindi cercare di rendere più fruibile quello che è un intervento appunto più unico che raro che potrebbe consentire sicuramente un efficientamento dell'abitazione ma contestualmente anche va a riqualificare appunto un parco immobiliare che a volte è anche abbastanza obsoleto. Quindi fare un salto di due categorie probabilmente installando per quanto riguarda la classe energetica di un'abitazione probabilmente installando un impianto fotovoltaico con un accumulo e inserendo anche una caldaglia di ultima generazione senz'altro può garantire e può permettere di creare quel tipo di generazione che poi è l'obiettivo che noi tutti ci stiamo ponendo un tipo di generazione più diffusa sul territorio e quindi non avere più una generazione centralizzata una generazione diffusa sul territorio che abbatte senza altro i consumi fa sì che venga acquistata meno materia prima quindi ci sia un minore spreco di materia prima e eh si evitano anche i problemi di cui parlava prima anche il dottor Tamburrano per quanto riguarda le dispersioni dell'energia elettrica nella rete che sappiamo è un problema che da sempre eh affligge il sistema elettrico nazionale la rete l'energia elettrica purtroppo non è un bene immagazzinabile quindi è un bene che va consumato istantaneamente nel momento stesso in cui viene prodotto quindi necessariamente una dispersione all'interno del del sistema elettrico eh deve essere considerata ecco con questo tipo di generazione più diffusa e più localizzata sicuramente si può andare verso anche una riduzione di queste dispersioni e quindi una riduzione di quello che è lo spreco di quello che è lo spreco senz'altro anche andando ad approfittare di quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio eh nella maggior parte dei casi esposto a sud quindi ci offre eh un quantitativo di ore disponibili solari molto importante e quindi sarebbe un peccato non sfruttare quello che sono appunto le ore disponibili solari per non eh andare a generare energia elettrica in un modo sicuramente più pulito e molto più sostenibile. Per quanto riguarda la mobilità elettrica anche su questo siamo senz'altro molto presenti siamo presenti su diversi settori sia per quanto riguarda la mobilità elettrica chiamiamola leggera e quindi monopattini bici elettriche ma anche con l'installazione per esempio di wallbox e di colonine elettriche su tutto il territorio nazionale e chiaramente anche sul nostro territorio della regione Lazio anche attraverso magari accordi con aziende dell'automotive che ci possono consentire di dare la possibilità a tutti diciamo i clienti che acquistano una vettura elettrica di offrire la possibilità a questi signori e a questi clienti di avere diciamo la possibilità di una ricarica veloce ed una ricarica eh capillare su tutto il territorio laziale. Per arrivare anche invece ad una mobilità diciamo elettrica pesante eh tipo quella dell'autotrazione eh ricordo ad esempio che Edison ha sviluppato un progetto molto importante di LGNL in Italia eh per cui eh si va a eh di gassificare un gas che comunque è un gas sicuramente considerato un combustibile meno inquinante e green da questo punto di vista per quanto riguarda l'autotrazione per quanto riguarda la circolazione di veicoli pesanti. Concludendo devo dire che eh il concetto di smart city per Edison eh immagina una smart city all'interno della quale la combinazione di elementi urbani, infrastrutture e servizi debbano essere diciamo integrati il più possibili per cercare di offrire al cittadino eh la massima funzionalità. La massima funzionalità considerando però quelli che sono i temi dell'efficientamento energetico e del corretto eh utilizzo delle materie prime. Quindi in tal in tal senso le iniziative tipo il super bonus, tipo il tereriscaldamento, tipo l'illuminazione pubblica magari alimentata da energia solare eh tipo l'ecobonus sono sicuramente iniziative che fanno parte diciamo dei nostri dei nostri pensieri. Cerchiamo eh ogni giorno di portare avanti progetti in tal senso eh e ci fa molto piacere sapere che eh le istituzioni e tutti gli attori di cui parlavo prima che sono poi gli elementi fondamentali all'interno di una di una società eh ma senza lasciare il coinvolgimento del cittadino eh siano sulla stessa nostra linea. Quindi mh sono convinto che solamente con un lavoro diciamo coordinato eh e convinto tra tutti gli attori si possa conseguire un sicuramente un risultato ottimo per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Grazie dottor Piva. Interessante ovviamente anche le indicazioni che emergono al suo eh contributo che ci danno uno spettro insomma di di quello che c'è sul piatto a trecentosessanta gradi e a questo punto senza indugio però passo subito la parola a dottor Fineschi dell'area metropolitana di di Roma per CNA eh invitandolo ovviamente a portare il proprio voto. Prego. Allora sono Stefano Fineschi appunto rappresento la CNA di Roma Confederazione Nazionale dell'artigianato che di fatto fornisce offre rappresentanza alle piccole e medie imprese nonché in consulenza. Quindi ho ascoltato tutti gli interventi che indubbiamente sono tutti quanti orientati in uno stesso in uno stesso obiettivo e direzione. Ecco le cose che rapidamente ho appuntato e che vorrei appunto anche è proprio il discorso per esempio sull'ultima parte dell'intervento del dottor Piva sul per esempio sul super bonus cioè noi come attività diciamo di CNA noi abbiamo anche facciamo anche una rappresentanza nelle aziende per esempio per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, il ciclo dei rifiuti, i rifiuti speciali e anche diciamo l'interlocuzione con con il comune anche a seguito diciamo di cose in questo caso un po' fuori contesto su partari, scadenze e come dire costi eccetera che comunque all'interno delle aziende soprattutto nelle aziende di piccole e medie dimensioni hanno anche un impatto significativo e da un lato dall'altro c'è la parte diciamo dove anche in realtà poi mi occupo direttamente anche quella di attività di consulenza che mi consente anche di stare un po' sul campo e per cui di osservare una serie di cose per esempio il discorso sui super bonus no ha generato come dire indubbiamente una grandissima attenzione da un lato prima mediatica e poi come di man mano che si sta sviluppando sul campo con i cantieri che si aprono io una cosa che ho osservato perché noi facciamo consulenza per esempio anche per l'attività di sicurezza legito legislativo 81 e quindi consulenza alle aziende edili, impiantiste, quindi molte imprese che lavorano sui cantieri e cioè che ovviamente per la complessità stessa del bonus eccetera per i grandi condomini, le grandi strutture i tempi chiaramente sono molto più rallentati e lunghi per tutta una serie di complessità che adesso non ci stiamo qua a raccontare invece ho osservato che passati i primi mesi si è mossa in maniera significativa noi abbiamo proprio sui cantieri aperti su tutte le attività più p, cioè sulla ristrutturazione del villino del villino dei quadri familiari e quadri familiari con interventi che è vero che sono piccoli e puntuali ma che ci mostrano comunque anche una grande attenzione perché io poi osservando anche cosa viene realizzato ti accorgi che, come dire, villette vengono trasformate con solare termico con pannelli fotovoltaici, con l'integrazione del wallbox all'interno della proprietà eccetera questo ci dà anche un'indicazione che è, come dire, che dove c'è un evento eccezionale perché è chiaro che la possibilità del super bonus 110 anche se forse probabilmente rimarrà con percentuali minori genera anche un'attenzione sia da parte delle imprese che poi in fondo da parte dei cittadini, degli utenti in questo caso dei cantieri, dei compittenti e ci sono due cose che effettivamente poi devono seguire di pari passo che è un po' quello che è emerso da tutti i discorsi e cioè che dal lato noi abbiamo la possibilità di un'innovazione anche tecnologica cioè con le nuove caldaie, con i nuovi impianti fotovoltaici sempre più efficienti con una riduzione della distribuzione dell'energia in modo che sia più puntuale e locale e quindi da un lato questo ovviamente ci aiuta ed è il settore indubbiamente più vivo all'innovazione cioè anche la tipologia e i modi delle caldaie, degli impianti di condizionamento sono veramente in costante evoluzione noi d'altra parte abbiamo una parte invece che è quella per esempio proprio sulla prestazione energetica e cioè sulla capacità della coibentazione e dell'efficienza degli immobili stessi che chiaramente è proprio in questa fase che è necessario spingere perché come diceva il dottor Piva noi possiamo anche dotarci di una nuova caldaia di un impianto efficientissimo ma se la nostra classe energetica è l'ultima noi avremo comunque una dispersione energetica costante poi che sia prodotta da gas, da gasolio o dall'energia solare quella distribuzione c'è quindi ci sono questi due elementi ed è chiaro che l'elemento che chiamiamolo come dire in qualche modo hardware cioè la parte fisica dell'edificio è quella che ha tempi e costi molto più significativi e non può ovviamente seguire un'evoluzione tecnologica così spinta mentre nella parte della gestione degli impianti, degli accumulatori eccetera noi stiamo assistendo anche come dire a distanza di mesi di un'efficienza che effettivamente prima era anche inaspettata come per esempio ho anche molto apprezzato il fatto ecco della possibilità degli sportelli di consulenza e di indirizzo per la transizione energetica per dare da un lato l'opportunità che un po' facciamo noi come CNA con i nostri associati ma per tutti i cittadini di che cosa si intende e che cioè se noi non mettiamo insieme tutta questa serie di elementi avremmo sì un pezzetto però non avremo proprio una smart city ma dei pezzi che cercheranno di integrarsi ovviamente noi lavoriamo e viviamo sul campo con come dire variazioni come innovazioni nonché difficoltà che oggettivamente sono state anche imprevise cioè tutta la gestione che ho visto anche internamente per esempio della capacità di produzione durante la pandemia che ha trasformato lo smart working in qualcosa di assolutamente essenziale ha generato nuove situazioni il discorso della comunicazione delle reti dati da un lato quando si è spostata puntualmente in ogni singola abitazione ha messo in evidenza che la dotazione della fibra o comunque di protocolli di trasmissione di efficienza quindi anche di larghezza di banda è diventato un elemento essenziale in cui in parte probabilmente non si tornerà indietro anche con le aziende un'altra cosa che cambierà poi radicalmente questo riguarda anche il comune la città è il fatto che probabilmente non si tornerà in una condizione di lavoro così come previsto sia in termini di impiego ma che anche di utilizzo di strumenti diversi quindi lo smart working, lavoro da casa, lavoro a distanza eccetera per cui non è che spariranno di ufficio spariranno queste cose ma probabilmente ne avremo un utilizzo più ridotto quindi tutta questa serie di considerazioni come d'altra parte se poi uno lo osserva come dire la riduzione dei consumi in qualche modo e anche l'utilizzo della banda nelle aziende è diminuita ed è aumentata nelle singole unità abitative perché tu lavorando da casa tu una serie di consumi d'inverno le riscaldamento, l'estate, l'aria condizionata li sposti ecco la capacità e spero di tutti quanti di avere anche ognuno di noi la flessibilità per comprendere che i cambiamenti viaggiano adesso con una velocità per cui è difficile come dire ipotizzare anche un sistema di pannelli fotovoltaici magari tra dieci anni oggi lo considereremmo obsoleto però ci sono delle parti come sono poi diciamo che l'efficienza infrastrutturale come possono essere le strade di una città uno smaltimento dei rifiuti la capacità di un edificio di avere un'adeguata coibentazione eccetera sono elementi invece che noi ci portiamo avanti per tantissimi anni cioè per 30, 40, 50 anni poi noi non siamo una popolazione una tipo di una regologia edilizia come negli Stati Uniti in cui noi abbiamo proprio un ciclo di vita dell'edificio l'altra cosa era quella sul come dire diciamo il concetto di end of waste cioè la fine del rifiuto in edilizia si sta cercando e si è cercando in tanti modi anche nei come c'è neanche a livello nazionale del recupero del materiale di risulta eccetera a volte su questo c'è un problema che non è necessariamente come dire di capacità di poter fare questo ma ci si scontra anche con alcuni aspetti normativi e cioè l'utilizzo di un materiale riciclato ha rispondenza nelle caratteristiche negli standard costruttivi che sono per esempio richiesti in una gara in uno bando d'appalto perché poi chiaramente un'impresa può anche riciclare parte del materiale delle demolizioni ma se quello non rispetta le specifiche di un capitolato tecnico va in violazione una norma contrattuale da qui anche poi le necessità di come dire ulteriormente che diciamo le norme le regole e l'insieme delle attività connesse con tutto questo siano il più possibile come dire correlate tra di loro perché altrimenti noi abbiamo la possibilità tecnologica che non è utilizzabile per motivi normativi e magari quando la normativa arriva a definire quella cosa la tecnologia è già andata oltre ecco il mio intervento diciamo si conclude qui con la speranza appunto che questi tavoli questi incontri poi effettivamente ma contribuiscono anche a rendere come dire lo stesso oggetto in fondo il concetto di smart city e quindi poi di economia circolare di riduzione degli sprechi vista da tutti i punti di tutte le angolazioni dalla parte diciamo istituzionale a quella dei servizi a quella dell'energia a quella della consulenza tutto qua benissimo grazie mille dottor Fineschi veramente molto interessanti molte cose che sono state dette in particolare ho trovato insomma molto molto puntuale alcune considerazioni molto puntuali alcune considerazioni da riportare perché insomma in qualche modo danno la restituzione del vissuto quotidiano insomma quindi ovviamente del riscontro delle misure della loro ottica vita io prendo l'impegno per uno suggerisco anche alla presenza del del presidente Speranza presidente di cittadinanza di Valazio di riproporre magari a breve un appuntamento di approfondimento sulle questioni che sono onerze vista la complessità ovviamente della città di Roma perché veramente gli stimoli sono tanti che purtroppo il tempo c'è un po' tiranno per cui raccogliamo molte delle appunto degli stimoli che sono stati dati e anche alcune curiosità che anche dalle persone che ci stanno seguendo volevano appunto entrare maggiormente nel nel merito vi ringrazio tutti a partire dal presidente Diago che credo sia comunque ancora con noi Dario Tamburrano Roberto Piva Stefano Finischi e naturalmente vi invito a restare con noi anche per la seconda parte ma so che alcuni di voi sono impegnati già con altre questioni professionali per cui vi ringrazio intanto per il tempo che ci avete dedicato grazie veramente a tutti grazie 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 a tutti grazie rimango io rimango ascolto benissimo anche io cerco di rimanere il più possibile benissimo benissimo allora di nuovo grazie a tutti e a questo punto non mi resta che passare le consegne alla seconda parte dei lavori come abbiamo detto questo primo momento era di in interlocuzione tra l'altro ci dispiace ma per questioni tecniche il dottor Scandurra dell'agenzia per il controllo qualità e servizi pubblici locali di Roma Capitale non è riuscito a connettersi a collegarsi ai lavori e ci dispiace molto per non aver potuto comunque raccogliere anche la la sua testimonianza e nel e nel passare invece alla seconda parte come dicevamo invece interviene più miratamente sulle esperienze pratiche diciamo le buone pratiche di economia circolare mi piace sottolineare non solo del mondo profit che è quello che maggiormente abbiamo indagato ma anche del mondo no profit e oggi ne avremo anche una una testimonianza intanto ringrazio tutti i relatori che ci hanno raggiunto e inviterei immediatamente per Campagna Sabina a portare il proprio contributo a raccontarci un po' la storia di questa cooperativa e della logica di rete che si è costituita sul territorio Laura buongiorno e prego vi lascio la parola grazie buongiorno a tutti mi sentite ho il microfono messo giusto sì pare di sì benissimo buongiorno a tutti bene diciamo Campagna Sabina è una cooperativa sociale di comunità che è stata creata a Rieti da un gruppo di cofondatori partiamo da esperienze varie sia per quello che riguarda poi l'attivismo sia WWF che Slow Food e poi da un punto importante rispetto al territorio della provincia di Rieti abitando nel territorio che è proprio quello di riuscire a capire come concretizzare anche i modelli di economia sociale civile che poi in ambiti associativi peroriamo e promoviamo e quindi basandoci su quali punti sul provare a mettere insieme proprio cibo turismo e cultura come leve di sviluppo locale con al centro comunque l'ecologia per cui vedendo anche il nostro punto su tutta la parte di economia circolare è un riferimento importante come punto di arrivo diciamo al di là di un punto di partenza concretamente cosa abbiamo fatto rispetto a una rete informale legata anche alla presenza associativa e all'attivismo ragionando innanzitutto con i produttori locali piccoli dispersi che non fanno rete come è tipico delle aree interne dei nostri territori abbiamo creato appunto la cooperativa aperto uno spazio fisico in centro storico a Rieti investendo a livello personale quindi del gruppo dei promotori che si chiama Le Tre Porte cibo turismo cultura dove c'è la vendita dei prodotti locali dei produttori in rete c'è la parte di caffetteria c'è l'osteria c'è la libreria lo spazio per i bambini e anche spazio messo a disposizione della comunità locale per qualsiasi attività sia legata alla promozione dei singoli piuttosto che dell'associazione di temi comuni siamo aperti da febbraio duemiladiciassette tutto questo con una logica ecologica di fondo quindi da sempre plastic free da sempre eco-ristoranti e anche nel rapporto con i produttori quindi il progetto ampio non è che già è impegnativo di per sé creare rete aprire uno spazio avere un luogo quindi perché poi se non esistono luoghi fisici non si può parlare di comunità o di relazioni tant'è vero che paradossalmente anche in un territorio come il nostro non so poi se negli altri territori sia lo stesso però gli stessi produttori anche se viventi a cinque chilometri di distanza l'uno dall'altro se non c'è un luogo in cui ti fai convogliare o coincidere le energie magari non ti sei mai incontrato e non hai mai parlato insieme e dietro tutto questo c'è l'impegno importante legato allo sviluppo agricolo del territorio che vuol dire ragionare proprio in termini di produzione che guardi al risparmio energetico che guardi alla lotta agli sprechi come ben sappiamo non è solo lo spreco del consumatore ma è molto importante ciò che viene sprecato anche negli iter produttivi e l'ottimizzazione dei packaging quindi una prospettiva di lavorare su packaging sostenibili mettendo in comune le energie riuscendo poi a concordare quindi un impegno comune e tante di queste di queste attività però facendole partire facendole camminare di pari passo con il coinvolgimento della popolazione della comunità delle persone quindi attraverso un luogo che se volete è un piccolo Italy sostenibile di territorio perché studiando le varie formule pensiamo che la formula di Italy sia interessante che su questi territori può essere una sfida importante onerosa ambiziosa ma mantenendo una schiera dritta su questi temi si possa essere un punto di riferimento e quindi ad oggi quali sono i risultati al di là di tutte le poi noi siamo ovviamente mentre avevamo il cantiero aperto abbiamo siamo c'è stato il sisma e anche poi quindi abbiamo aperto nel 2017 e poi la pandemia questi processi legati a tanti piccoli tante piccole realtà non ha certo aiutato ha rifermato ha sconvolto deve fare la resilienza vuol dire soprattutto resilienza psicologica a livello di gruppo di essere tutti insieme poi ritrovarsi sulla stessa lunghezza d'onda e la capacità di reagire però ci sono dei risultati per esempio sono nate due filiere dal basso due filiere agricole veramente vissute concrete evolute come esito quindi non il punto di partenza solo perché c'è un bando anzi ma è come arrivare al bando in questo caso dei PSR sulla filiera perché c'era un qualche cosa prima legato alle energie di tutti e c'è una comunità attiva e consapevole quindi da questo stiamo mettendo insieme gli impegni delle aree interne perché una realtà come la nostra ad esempio è stata un attuatore un componente concreto della cabina di regia che ha portato alla cabina tecnica che ha portato la firma dell'accordo quadro di programma per la realizzazione dell'area interna in Montireatini ci sono i GAL stanno partendo i biodistretti e questo pensiamo che sia tutto un insieme di situazioni da una parte legate a un contesto dall'altra che si concretizzano in un certo modo perché ci sono attori animatori locali di comunità dove venendoci a trovare per esempio Rossella Muroni dice queste sono le idee le aspirazioni o gli impegni di ecologia che si fanno economia ecco e quindi a maggior ragione rispetto all'economia circolare poi è il punto di concretezza sul quale dobbiamo arrivare a dimostrare che ci siamo benissimo Laura senti solo una domanda ti faccio rapidamente nel senso appunto voi lavorate in una logica di rete quanti sono i operatori che aggregate grossomodo quali sono gli ambiti sui quali sono attivi allora se parliamo di rete di produttore abbiamo due filiere una filiera agricola che comprende formalmente 33 produttori un'altra filiera diciamo chilometro zero che ne comprende altri 12 perché poi ognuno si ritrova nella sua modalità e poi nella realtà di fatti in modo informale sono in tutto un'altra una settantina in tutto di produttori che ruotano intorno a questo percorso a questo a questo progetto poi noi siamo parte anche della filiera grani antichi che è un'altra è un'altra esperienza interessante che è partita da un concetto sociale sul territorio dei giovani hanno lanciato l'idea della social valley cioè di unire agricoltori che si impegnavano insieme a riseminare grani antichi pre-strampelli in modo tale di poi di condividere il raccolto di fare una farina comune di fare un'attività comune quindi siamo in filiere in vasi comunicanti e poi c'è una rete diciamo associativa di realtà del territorio quelle che sono presenti attive che vanno dall'Arci dalla Caritas dal comunque centro servizi volontariato la stessa cittadinanza attiva e quindi parliamo comunque di una rete informale di almeno una trentina di associazioni con le quali poi lavoriamo concordando su progetti ma adesso recentemente abbiamo condiviso un manifesto dell'economia sociale e civile per la provincia di Rieti proprio anche in reazione a tutto il movimento e l'agitazione sul recovery fund in modo tale di chiedere al pilastro della politica al pilastro del mercato del territorio di lavorare in un tavolo paritario e congiunto e quindi di lavorare su contenuti e proposte progettuali insieme quindi lanciando un po' la sfida e lanciandoci la sfida di includere tutti e quindi di armonizzare poi l'impegno sociale ed economico civile di tutte le realtà che ci sono sul territorio una cosa rapida Laura scusa mi permetto di chiederti ovviamente è certamente così la pandemia ha avuto un impatto in che misura soprattutto appunto nella rete degli operatori che ci sostengono ma soprattutto perché rispetto a comunque delle prospettive delle potenzialità legate al sistema agroalimentare su questo territorio siamo ancora indietro nella capacità organizzativa perché mancano la possibilità di accedere ad investimenti veri e anche di far convergere su questo territorio delle competenze che possano poi far fare un salto in avanti in modalità organizzative in tecnologia eccetera che sono comunque necessarie e quindi stiamo andando lentamente da questo punto di vista quindi darsi una capacità di futuro e darsi delle prospettive che poi corrispondono delle prospettive concrete e qui siamo lenti però piano piano andiamo avanti non si molla e quindi credo che ormai c'è una maturazione di soprattutto di condivisione delle prospettive degli intenti sia anche da parte dei singoli cittadini che dalle varie realtà organizzate quindi credo che il prossimo anno i prossimi dodici mesi possano essere cruciali proprio nel poter convergere mettere insieme i vari asset e non dimenticare devo dire passatevi un po' la battuta che paradossalmente quando si parla qui di energia circolare scusate di di economia circolare invece che parlare delle tre R entrare in una modalità un po' tecnica gli danno includono degli abbinamenti alquanto pittoreschi quindi diciamo che anche la competenza ambientale va un po' condivisa dal punto di vista tecnico però ci arriveremo bene quindi sicuramente la diffusione la sensibilizzazione insomma è una strada ancora fortemente da percorrere grazie Laura intanto io passerei subito al un altro dei relatori della seconda sessione al dottor Bucci che ci racconta lo anticipavo in apertura di questa sessione un'esperienza in realtà appunto legata al no profit una bella esperienza che si innesta sul pienamente alla volta allo spreco o meglio forse all'ottimizzazione delle risorse vi lascio la parola molto volentieri per raccontarci un po' la disponibilità di uno spreca grazie dottor Bucci buongiorno a voi mi ringrazio della possibilità di condividere la nostra esperienza noi siamo un'associazione nata nel 2013 da un gruppo di amici e professionisti in vari settori ma legati comunque in diciamo in qualche maniera alla alla sostenibilità alla gestione ambientale ai sistemi di gestione quindi ci siamo messi insieme e abbiamo cercato di creare un'associazione che potesse comunque sia sul nostro territorio dare un contributo per quanto concerne il contenimento degli sprechi nel 2016 grazie alla legge CADda abbiamo comunque sia quella chiaramente riguardante la lotta lo spreco alimentare e non solo chiaramente riguarda anche altri prodotti noi chiaramente ci siamo concentrati sul settore alimentare agroalimentare e quindi grazie a questa diciamo come posso dire ottimizzazione delle norme già esistenti abbiamo cercato di costruire attraverso le nostre esperienze un sistema di gestione della raccolta del cibo in eccedenza sul nostro territorio da quel momento in poi chiaramente ci siamo trasformati da associazione culturale a associazione di promozione sociale quindi iscritta regista dell'associazionismo della regione Lazio diventando un vero e proprio utente del terzo settore abbiamo creato questo format che si chiama Radispoli non spreca perché chiaramente volevamo intanto segnalare la presenza in una città come quella di Radispoli di grande diciamo interesse verso il sociale e verso l'ambiente quindi abbiamo trovato un grande spazio diciamo di collaborazione sia con le varie amministrazioni che si stanno diciamo succedendo ma specialmente con la collettività quindi cosa abbiamo fatto abbiamo portato il nostro le nostre esperienze creando un sistema di gestione della raccolta non solo diciamo presso i grandi interlocutori quindi la grande distribuzione che chiaramente genera grandi quantità di diciamo eventuali eccedenze ma siamo andati a specializzarci presso diciamo i piccoli quindi il cosiddetto ultimo miglio che cosa abbiamo fatto abbiamo creato una rete chiaramente abbiamo sicuramente creato delle connessioni con altre associazioni governando un po' il sistema gestendo diciamo questa parte diciamo della logistica di ritorno che è quella chiaramente propriamente per i rifiuti ma questa chiaramente la vediamo come logistica di ritorno perché nel senso che curiamo i prodotti in una seconda fase della loro esistenza prima che diventino rifiuti quindi abbiamo creato questa filiera dove noi riusciamo a intercettare grazie come dicevo prima anche alla grande collaborazione della collettività e delle diciamo delle attività commerciali dove andiamo a prendere giornalmente dai piccoli anche le piccole quantità di qualsiasi diciamo prodotto chiaramente si parla di alimentare e poi chiaramente abbiamo creato questa filiera per la ridistribuzione sul territorio inizialmente abbiamo fatto questo tipo di scorso di ridistribuzione avendo coscienza della nostra tra virgolette non esperienza nel dialogo con il il bisognoso quindi chiaramente abbiamo cercato di creare un'esperienza creare una nuova formazione quindi in un primo momento abbiamo avuto diciamo la disponibilità di molte associazioni anche a livello nazionale che hanno chiaramente qui sul posto la loro punto in punto di distribuzione per arrivare direttamente ai bisognosi attraverso qualcuno che avesse già una propria formazione da circa due anni in realtà poi proprio a cavallo con l'emergenza sanitaria il comune di Radispoli ci ha dato uno spazio per la distribuzione diretta da parte nostra e per facendo così abbiamo riuscito siamo riusciti comunque a entrare in contatto con direttamente i bisognosi e ridistribuire i prodotti che noi giornalmente andiamo a ritirare che cosa stiamo facendo stiamo facendo un'azione che riguarda sì l'ambiente quindi chiaramente è una lotta alla produzione del rifiuto che chiaramente per un comune come come tanti come tutti quanti ma come quello di Ladispoli che ha una grande presenza commerciale di attività di produzione somministrazione di agricoltori e vi dicendo generava una grande quantità di produzione di rifiuti organici quindi noi che cosa abbiamo pensato andiamo da questi signori andiamo a ritirare i prodotti che loro generano definiscono in eccedenza chiaramente sia per un discorso di normativa sia per un discorso di reale ancora consumabilità degli stessi andiamo poi a ridistribuire i prodotti direttamente ai bisognosi però che cosa facciamo noi tracciamo tutto quindi in che cosa vuol dire che comunque ogni singola ogni singolo prodotto che noi andiamo a ritirare lo tracciamo attraverso una documentazione che abbiamo condiviso con i nostri donatori e chiaramente non c'è bisogno che diciamo che lo dica ma è tutto totalmente gratuito quindi nessuno ha un costo noi siamo un'associazione di promozione sociale quindi non è un servizio per un'azienda ma è un'occasione per la collettività quindi noi non chiediamo nessun compenso economico lo facciamo con la massima disponibilità in occasione di volontariato stessa cosa le aziende non hanno costi di gestione quindi chiaramente è veramente sostenibile e non andiamo a trovare nessuna cassa dicevo andiamo a ritirare questi prodotti dai piccoli e poi li distribuiamo attraverso questo emporio abbiamo chiamato emporio solidale perché prima della pandemia la nostra intenzione era anche farlo diventare una sorta di punto di incontro di diciamo della cittadinanza per avere momenti di informazione e di aggregazione nel settore diciamo del appartevolo sociale chiaramente già di coesione ma per un discorso di informazione e accrescimento della cultura ambientale e dell'ambientale agroalimentare perché comunque con questa occasione di questo progetto noi entriamo anche dentro le aziende e cerchiamo di dare una giusta informazione rispetto anche alla corretta gestione della produzione per esempio agricola cerchiamo di dire ai nostri di rispettare la diciamo la stagionalità dei prodotti cerchiamo di dire ai nostri interlocutori comunque sia di rispettare quello che è la rotazione anche dei campi cerchiamo di dire ai pescatori di non 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 come posso dire andare a fermare lo sviluppo e la crescita per esempio della animale del pesce quindi di farlo derivare a maturazione di quale pesce comunque sia giusto pescare e quale no perché comunque sia crediamo che lo spreco alimentare si debba comunque sia contrastare non solo per una non produzione di rifiuti per la raccolta e poi per la distribuzione ma anche a diciamo a monte cioè nella cultura della gestione del diciamo delle proprie produzioni dei propri prodotti stiamo pensando stiamo sviluppando anche un sistema per dare la disponibilità e quindi dare aprire una finestra per tutti gli interlocutori quindi per utilizzare diciamo per i nostri sistemi informatici in tecnologia blockchain dove chiaramente tutte le nostre diciamo tutto il nostro flusso viene tracciato e viene lasciato lì chiaramente senza possibilità di essere modificato nel tempo e a disposizione di tutti per il controllo e per la veridicità di quello che sono le nostre azioni nel tempo chiaramente vorremmo comunque sia crescere rispetto al discorso del rapporto con i cittadini chiaramente poi in questo periodo diventa ancora più difficile il discorso di aggregazione e quindi purtroppo questo l'abbiamo rimandato però diciamo che le quantità di prodotti che abbiamo gestito durante il periodo di pandemia sono state comunque sia importanti i nostri donatori nonostante il periodo hanno mantenuto un dialogo con noi e hanno continuato ad aiutare il prossimo e diciamo che abbiamo siamo cresciuti nelle quantità di distribuzione perché è chiaro che in questo momento i bisognosi purtroppo sono tantissimi però vorremmo cercare di arricchire il rapporto che abbiamo creato con i nostri diciamo amici ormai io definirei del territorio per comunque sia un discorso di crescita e di comprensione anche di quello che è le azioni che possono essere intrapresi per la lotta all'ospedico alimentare e non solo questo è quanto quello che noi abbiamo fatto grazie dottor Bucci solo una curiosità perché mi sembra si evinca chiaramente che la vostra opera si articola anche in percorsi di sensibilizzazione e di educazione quali target chiaramente la cittadinanza in senso l'altro mi sembrava di intuire anche in qualche modo i produttori o comunque gli operatori di settore questo è un aspetto interessante che se ci riesce a dire due parole in più per comprendere come state operando grazie allora stiamo operando sicuramente utilizzando sistemi di comunicazione diciamo ufficiali nel senso sistemi di comunicazione attraverso newsletter attraverso comunicazione ai nostri cercando di portarli a ragionamento insieme che se riusciamo a contrastare gli sprechi sia in termini di produzione sia in termini di materiali utilizzati quindi materiali che sono utilizzati all'interno della produzione o della distribuzione chiaramente riusciamo comunque sia a ottenere dei vantaggi per la collettività è chiaro che quello che funziona di più è che purtroppo lo stavo dicendo prima quello che stiamo vivendo tutti quanti è il contatto diretto con tutti i vari interlocutori i momenti di incontro ed eventi che chiaramente in questo momento siamo limitati nel farlo insomma quindi cerchiamo comunque sia di come posso dire sensibilizzare i nostri donatori ma anche i nostri diciamo bisognosi le persone che vengono da noi dove chiaramente creiamo dei rapporti veri dei rapporti di scambio dove cerchiamo di fargli capire anche come utilizzare i prodotti che noi doniamo in modo che comunque sia possano comunque sia utilizzare al meglio e spregare al 100% meno rispetto a quello che oggi invece è una cultura diciamo non specifica anche per esempio sulla cucina dei cibi quindi abbiamo diversi interlocutori io come dicevo prima siamo un insieme di amici professionisti e quindi cerchiamo in ogni in ogni diciamo momento di incontro di comunicare il giusto attraverso l'opera di ogni nostro socio all'interno dell'associazione che possa comunque sia dare un'indicazione sulla la gestione dei rifiuti piuttosto che la gestione della della rotazione dei prodotti nella cucina nel discorso legato alla produzione insomma cerchiamo di dare delle informazioni più che chiamare l'educazione cerchiamo di informare i nostri e cercare di creare una comunità benissimo grazie mille dottor Bucci mi sembra di capire che in qualche modo c'è come dire una fase progressiva di lotta allo spreco intercettando inizialmente appunto quelli che sono scarti per altri in qualche misura appunto inducendo invece poi i destinatari di questo di questo cibo insomma di questi alimenti invece a farne l'interuso e quindi prevedire scarti a loro volta veramente un ottimo un ottimo ragionamento di filiera come dire sembra veramente prezioso e la ringrazio e invito invece Nicola Denis che è socio lavoratore della cooperativa REWARE altri direbbero CoFunder una cooperativa che si occupa di rigenerazione la dico banalizzando di materiale elettronico in particolare di computer dismessi ma ci darà molto meglio lui poi lo inviterò a condividere con noi qualche riflessione più ampia sull'ampio settore del riuso prego Nicola buongiorno allora mi sentite si un po' bassino se devo dire la verità un attimo il microfono scusatemi adesso mi sentite meglio anche troppo forse ok ok ti sentiamo bene sicuramente perfetto quindi buongiorno prima di tutto grazie per l'invito è un piacere poter si ascoltare e raccontare queste storie perché non basta mai la diffusione insomma perché noi facciamo qualcosa che viene spesso raccontato come innovativo sono quasi vent'anni che lo facciamo quindi noi personalmente non ci sentiamo così innovativi però ogni tanto veniamo identificati come una start up che ha inventato l'acqua galda nel 2021 è una storia abbastanza lunga siamo un gruppo di persone prima di tutto di attivisti di persone impegnate nel sociale persone che hanno avuto esperienze in vari campi dalla cooperazione internazionale al volontariato al mondo dell'informatica in particolare legate alle questioni diverse questioni di natura sia sociale che ambientale poi nel tempo il gruppo che siamo adesso si è specializzato su una parte più ambientale quindi 15 anni fa abbiamo costituito una prima cooperativa che si chiama binario etico che si occupava di tecnologie e problemi sociali e ambientali a 360 gradi e abbiamo fatto progetti di cooperazione appunto abbiamo fatto un lavoro molto profondo sulla diffusione del software libero Linux il diritto all'accesso ai saperi la privacy e poi l'argomento che ha portato all'esperienza odierna la componente diciamo materiale della tecnologia che è il computer diciamo nel senso lato quindi computer di tutti i storie Mennicoli che è un oggetto di suo con un'altissima concentrazione di consumo di risorse all'interno nel senso che in proporzione al suo peso e al suo volume il computer è uno degli oggetti più inquinanti con il quale abbiamo a che fare nella nostra vita quotidiana e non solo a monte la produzione di un computer richiede circa 1800 chili di risorse naturali stiamo parlando di 1500 litri di acqua più 200 chili di idrocarburi e un tra i 50 e i 100 chili di altri materiali ma a valle il rifiuto elettronico il RAE è uno dei rifiuti più difficili da gestire perché appunto è un concentrato di materiali piccoli di oggetti piccolissimi saldati tra di loro ognuno con delle fatti di sintesi chimiche avanzate molto complesse e non è facile da gestire come rifiuto neanche con le nuove fra virgolette tecnologie del riciclo che compaiono molto spesso quindi alla fine del ciclo di vita del computer comunque rimane questa piccola bomba ecologica che viene realmente smaltita solo in parte c'è sempre uno schetto di dal processo di riciclaggio e questo schetto è tra virgolette non gestibile è qualcosa che non può neanche andare in una termovalorizzatore che noi ovviamente termovalorizzatori non piacciono perché è piena di materiale infugante quindi partendo da questo ragionamento noi abbiamo aperto nel 2007 una officina informatica un piccolo negozio di computer che rigenerati computer che prendiamo solo da grandi aziende che negli anni è cresciuto e nel 2013 abbiamo fatto uno spin off dall'altra cooperativa da binario etico abbiamo fatto quell'attuale che si chiama Reware la nostra cooperativa non solo è una cooperativa cosiddetta di produzione del lavoro per utilizzare la vecchia terminologia è anche un'impresa sociale riconosciuta l'impresa sociale è una cosa che una come dire una caratteristica che compare nel 2006 con una legge specifica e per essere in impresa sociale bisogna dimostrare di produrre qualcosa di utilità sociale noi siamo riconosciuti nel campo della prevenzione ambientale ovviamente e negli anni la nostra cooperativa è cresciuta attualmente facciamo circa 4.000 5.000 computer all'anno quindi è un volume piuttosto grosso c'è lavoro per 7 persone sono computer che vendiamo sia online che in sede fissa quindi in negozio a privati aziende associazioni e sono computer abbastanza particolari perché essendo solo computer che vengono dal mondo del business sono pc maggiormente portatili che hanno una vita utile residua molto lunga sono oggetti che altrimenti diventerebbero dei rifiuti prematuri che hanno in realtà un potenziale di utilizzo ancora importante e questa cosa permette di risparmiare quindi le risorse di cui parlavo prima se si moltiplica le 1800 tonnellate di risorse naturali di ogni singolo computer per 4000 macchine capite che già siamo arrivati a quasi 6 milioni di chili quasi 8 milioni di chili di materiale è abbastanza impressionante raddoppiando la vita di un computer sostanzialmente sostituiamo l'uso e la produzione di un computer nuovo quindi dimezziamo di fatto il consumo di queste risorse quindi questo è l'impatto concreto della nostra attività un altro aspetto importante noi siamo molto fortemente legati al nostro DNA alla nostra cultura e al rapporto che abbiamo con il sociale quindi negli anni abbiamo sviluppato diversi progetti di cui uno è stato lanciato all'inizio della pandemia siamo intervenuti praticamente subito nel momento in cui con il lockdown sono scattate tutte le forme di didattica a distanza e via dicendo e abbiamo iniziato a raccogliere i computer per donarli alle scuole perché in quel momento è scoppiato come dire un'emergenza digital divide che era latente in realtà nel senso che non è perché c'è il covid che compare un nuovo problema in realtà l'esclusione dal detto allo studio nella misura in cui le famiglie meno abbienti non hanno tecnologia a disposizione è sempre esistita solo che si è aggravata questa cosa e quindi abbiamo iniziato a raccogliere i computer dalle aziende per donarvi alle scuole donati nell'ecco di un anno circa un centinaio siamo sette persone insomma questa è la nostra capacità e abbiamo appena firmato un contratto con una grossa azienda che ci permetteva di continuare questa attività anche nel prossimo anno scolastico perché anche spero in corso le dita come tutti non ci sarà la didattica a distanza comunque la scuola si è digitalizzata in un modo molto accelerato in questo periodo ovviamente quindi per esempio la didattica cosiddetta integrata è una nuova forma di di studio al quale delle famiglie non proprio non accettano perché famiglie povere di migranti di persone con difficoltà economiche con mancanza di cultura anche semplicemente o con la non capacità c'è persone che cercano di seguire un corso una classe didattica a distanza con un telefonino non si riescono neanche a rendersi conto che non funziona quindi questo è uno degli aspetti su cui siamo intervenuti e questo è più o meno il quadro diciamo delle attività che facciamo attualmente grazie grazie Nicola intanto per aver citato in sintesi in qualche modo uno spaccato di un'esperienza che è lunga ormai vent'anni quindi insomma di cose ne sono accadute tante e in questi vent'anni in realtà grazie anche a questa esperienza siete entrati maggiormente proprio nel mondo nel più ampio cosmo del riuso ecco su questo vista la tua particolare esperienza troppo spesso la percezione del riuso si limita al mercatino magari volto alla beneficenza piuttosto che a misure comunque molto legate legate in qualche modo appunto alla creatività il riuso è un dotto molto complesso su questo ti pregherei di dirci due parole sì allora noi tendo che siamo diciamo un caso abbastanza specifico nel mondo del riuso interagiamo con tutto il settore devo dire che il riuso è nell'immaginario della politica dell'economia contemporanea una specie di cenerentola il riuso viene spesso considerato come qualcosa di folcloristico in realtà il riuso in termini di economia rappresenta 1% del PIL in Italia stiamo parlando di volumi molto importanti dove se si parla di operatori dell'usato ci sono sì i mercatini però poi ci sono in catene per esempio franchising tipo la mercatino mercatopoli poi ci sono operatori tipo ebay amazon oppure altri soggetti del mondo caritas che sono in realtà dei sistemi industriali giganteschi quindi il riuso è estremamente eterogeneo è distrettato nel senso che esiste una normativa europea del 2008 che vorrebbe promuovere il riuso che l'Italia non ha recepito quindi non esiste una normativa italiana su quello che sono i centri del riuso non esiste tuttora una normativa per la promuovazione del riuso è un po' un paradosso perché nel mondo dell'economia nell'era della cosiddetta economia circolare anche il PNRR che interviene pesantemente su queste tematiche intervenire sul riuso per mettere facilità del riuso sarebbe qualcosa in realtà di veloce facile ed economico e con un impatto ambientale e sociale molto importante anche perché una delle caratteristiche del mondo del riuso è che giustamente è un mondo di attività economiche ad alta intensità di lavoro di persone che fanno materialmente delle attività artigianali e per forza di cose a bassissima intensità di consumo di risorse riuso significa appunto non consumare risorse anzi salvarle preservarle condividerle via dicendo noi per esempio come le due cooperative che siano stati la precedente questa e l'attuale non abbiamo mai ricevuto nessuna forma di sostegno pubblico quindi il riuso diciamo oggi come oggi ripeto è un po' l'accenerentola in questo mondo ci capita spesso di interlocuire con dei politici che più o meno ci danno una pacca sulla spalla ci dicono quanto siamo bravi gentili e carini forse carini no dopodiché dicono vado a parlare con i grandi e vanno a parlare con le grandi aziende che non fanno veramente economia circolare spesso insomma non so se ho risposto a questo quadro e corrisponde più o meno a quello che chiedevi Raniero sì assolutamente assolutamente Nicolai io abuso un pochino della tua pazienza sapendo che conosci anche un pochino diciamo nel dettaglio la Francia e più in generale il contesto internazionale mi faceva mi faceva piacere chiederti sperando di metterti in difficoltà un pochino queste dimensioni che all'estero sono un pochino più avanzate in termini penso la riparabilità insomma dei beni ad esempio due o tre esempi abbastanza impressionanti in Europa sono tre o quattro i paesi che non hanno ancora recepito questa componente della direttiva europea la 9808 tanto per essere precisi la Waste Framework Directive i paesi che l'hanno recepito hanno avuto un boom dal punto di vista del sviluppo della trasformazione del settore del riuro ovviamente conosco meglio il settore mio quindi quello legato all'elettronica però per darvi un'idea in Spagna esiste una rete di cooperative sociali di diverse migliaia di persone che lavora diverse centinaia di migliaia di computer in Francia la rete Envy che è un'espressione di Emmaus ha una cinquantina di negozi e un paio di impianti industriali ancora più impressionante la Svezia dove noi noi non riusciamo a recepire abbastanza intercettare abbastanza compiute qua in Italia perché la normativa non ci è favorevole in Svezia dove invece la normativa è molto più avanzata un'azienda simile a noi per storia e modalità ha un paio di centinaia di dipendenti sto parlando della Inrego che tra l'altro è conosciuta anche in Italia e una dei paradossi delle cose più assurde è che da lì ci sono arrivati da questo fornitore dei computer con delle tastiere italiane che significa che erano dei computer diventati rifiuto in Italia ridiventati bene in Svezia lavorati al costo del lavoro svedese rivenduti a noi e c'era ancora un margine di guadagno tra l'altro una battuta perché l'ho scoperto qualche giorno fa parlando con un amico di una società che si occupa di calcolo della CO2 nei processi industriali probabilmente questa cosa qua permette alla Svezia di computare nel proprio sistema industriale un beneficio di riduzione della CO2 che fa in Svezia con i computer italiani al posto nostro non so se vengono calcolati i costi di trasporto però è abbastanza ridicola questa cosa qua loro hanno come dire una compensazione CO2 fatta con i rifiuti degli altri quindi è una cosa uno dei tanti paradossi che ci sono in questo settore e più che circolarità è ricircolarità in qualche misura da questo punto di vista senti un'ultima battuta e poi ovviamente non ti disturbo ulteriormente volevo chiederti in Italia alla luce anche delle cose che dici quali sono le più immediate prossime scadenze che il settore richiede per poter fare un passo avanti allora so sono al corrente di diverse interlocuzioni che ci sono state nei ultimi mesi con con il MITE con in particolare con la sottosegretaria Fontana l'attuale sottosegretaria che è una persona che a mese di gennaio febbraio aveva per esempio sostenuto molto fortemente quelle che noi chiamiamo le campagne per il diritto alla riparabilità che sono diverse perché nasce nei Stati Uniti questo tipo di campagna poi è diventata europea poi l'Italia ha avuto la sua e è una cosa che ha avuto anche un grosso una grossa visibilità mediatica so che ci sono delle bozze di decreti attuativi nei cassetti dei ministeri si tratta di comunque un tipo di procedura abbastanza complessa perché è una cosa che per quanto ne so io dovrà passare da una conferenza Stato-Regioni dall'approvazione del MISE riediscorrendo non sono molto convinto che nell'arco di questa legislatura si riesca ad arrivare all'emanazione di questi decreti attuativi sicuramente questa cosa è molto importante ma è veramente macchinosa poi se ve l'ho smentito dalla realtà sarò felicissimo bene saremmo felici veramente tutti significa fare un passo avanti per il nostro paese da questo punto di vista insomma dando spazio a un settore che sottrarrebbe materiale peraltro alle discariche sicuramente ma anche ad altre forme di smaltimento si e produce lavoro anche perché è una cosa molto importante questo aspetto qua anche per il settore del riciclaggio dei materiali ricordiamoci che nella piramide delle priorità in materia di prevenzione ambientale salvaguardia delle risorse il riciclaggio viene dopo il riuto perché il riciclaggio in realtà è già un fallimento fra virgolette del design di un oggetto e del modo in cui questo oggetto è stato utilizzato un oggetto non può essere è una follia pensare che noi costruiamo degli oggetti complessi e costosi per buttarli dopo qualche anno e dobbiamo farli vivere molto molto più a lungo e in questo modo permettiamo anche a molte persone di fare delle attività lavorative dignitose insomma noi qua in cooperativa uno dei motivi per i quali abbiamo costituito questa cooperativa è che viviamo bene abbiamo un bel lavoro e siamo orgogliosi di quello che facciamo sì io aggiungo peraltro perché magari dalle due parole ovviamente conosco e quindi non interpreto erroneamente se potrebbe emergere come dire un'ostilità al anticipaggio non è così sappiamo una è fondamentale ovviamente anche quando si parla di transizione quello che dici ovviamente è un passo ulteriore cioè investire sulla parte più alta della la gerarchia dei rifiuti e quindi sulla prevenzione sulla predisposizione al riutilizzo e far sì che un bene appunto protragga la propria vita prima ancora appunto sì in realtà sono attività complementari e servirebbe una buona cabina di regia per far sì che cioè per esempio il sistema del riuso ha di suo implementato quella che noi chiamiamo le logistiche di ritorno logistiche le reverse logistic che sono uno dei punti deboli e più costosi del settore del riciclaggio dei rifiuti elettronici quindi considerando che operatori come noi vanno in giro per l'Italia a caccia di computer li stanano dove stanno li raccolgono li separano li selezionano hanno già fatto la metà del lavoro che serve poi al settore del riciclaggio tra parentesi che in Italia riesce a fare il 30% di attualmente del del rifiuto quando ne dovrebbe fare il 65% dal 2019 portare in sinergia questi due settori permetterebbe di migliorare di tantissimo i risultati in termini ambientali anche nel settore del riciclaggio sostanzialmente benissimo grazie mille Nicolà diciamo ci hai portato un contributo non solo specifico legato alla tua esperienza di impresa ma anche più ampiamente diciamo sugli interi settori credo che sia un elemento di interesse perché poi c'è un tema di cui non si parla adeguatamente non dico che non se ne parli ma non sempre si entra diciamo nell'approfondimento necessario quindi te ne ringrazio in particolar modo ringrazio tutti i elevatori ricordo che l'auspicio da parte nostra è che questa esperienza evolva anche in una logica di rete quindi invitiamo naturalmente tutte le aziende le esperienze anche come nel caso dell'APS che gestisce l'esperienza di la Dispolino Sprega a entrare in una in una rete della generazione contro gli sprechi e quindi insomma ci auguriamo di ritrovarci presto ci spiace non sia potuto intervenire Thomas Marino perde Sarkol che per questioni crediamo legate al vaccino purtroppo non è potuto intervenire sicuramente faremo in modo di recuperare anche i materiali della loro della loro iniziativa e quindi metterli a disposizione nel nel sito di Sprega o di generazione Sprega o a me non resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno seguiti con l'impegno come cittadinanza attiva Lazio quindi al di là dell'appuntamento odierno che ci vede appunto nella grande famiglia di generazione Sprega o di riaffrontare alcuni dei temi emersi oggi a cui non abbiamo potuto dedicare elementi di approfondimento solo per questioni di tempo a disposizione e vista la complessità anche del territorio che andiamo ad indagare che abbiamo indagato oggi di di riproporlo con un momento di attenzione ulteriore quindi su questo spero che colga anche il presidente Speranza di poter presto avviare un altro momento di cittadinanza attiva su questi temi io ringrazio Daniero volevo intervenire un attimo a conclusione è possibile prego volevo da una parte ringraziarti per la eccellente condizione del webinar e anche osservare che in effetti è stato un incontro molto interessante nel terzo di spunti riflessioni e proposte credo proprio che sono d'accordo con te che dovremmo anche a breve programmare dei momenti di approfondimento sui vari temi anche perché in quell'occasione potremo anche far partecipare o far intervenire persone che l'avevano richiesto in chat che potrebbero dare un contributo interessante e ulteriore non solo sono d'accordo con te ma mettiamoci all'opera per poi realizzato grazie grazie a tutti grazie a tutti da parte di me grazie a te salvatore sicuramente lo faremo e c'è un tema che sembra essere emerso quello comunque dell'edilizia che diciamo è stato toccato da tanti punti diversi grazie veramente a tutti e ci auguriamo a presto grazie a tutti